E beh ragazzi e ragazzi amici che mi seguite un video alle 23.33 dopo averne fatto già uno poche ore fa non era certo in programma ma poi succedono le cose e come si fa a non fare un video e non trattare un argomento che è molto importante al quale tengo molto e al cui ho dato e do spesso e darò spesso spazio sui miei canali c'è la condanna di Ghislaine c'è la condanna di Ghislaine Maxwell è tutta cellera anche questa è un bel colpo una condanna alla donna amica amante consigliera segretaria socia in affari di quel figlio di Epstein condanna leggera leggerissima 32 anni 32 anni soltanto 32 anni quindi vedete che questa signora ha qualche responsabilità piccola 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 evidentemente ce l'aveva 32 anni tondi tondi di condanna e volevo semplicemente darvi la notizia molti di voi non lo sapranno ancora e sui media mi sembra non sia ancora comparsa ma sui media tradizionali ma c'è la condanna ed è una condanna molto molto importante 32 anni qua mi fermo vi saluto vi ringrazio per l'attenzione vi invito a iscrivervi al mio canale se non lo siete se non siete ancora iscritti se non l'avete fatto e a domani in mattinata farò un altro video che credo e spero possa essere interessante